Buonasera la visa gentilmente che ha messa, sabato sera qui alla fametta Siamo in preparazione di liberare la sana Io vi faccio un giro tra i tavoli adesso Ciao eeeh ci siamo anche la sera grazie ragazzi grazie cosa ti hanno fatto torna vacato un giorno e con altro ma questo una mia e siamo solo all'inizio non mi preoccupano senti la mano